Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove ci sono rallentamenti per una perdita di carico tra Prato-Ovest e l'allacciamento con la 1 verso Firenze. In Fippili, svincolo chiuso per lavori a Ginestra Fiorentina in uscita provenendo da Firenze e in entrata verso Livorno. Sulla statale Trebbi-Stiverina fino al 22 dicembre scambio di carreggiata tra i chilometri 149, 550 e 144, 700 con chiusura dello svincolo di Pieve-Santo Stefano Sud in entrata e uscita in direzione Orte. A Firenze, per l'avanzamento dei lavori di riqualificazione di Piazza dell'Isolotto, sono in vigore di vieti di transito nella piazza da Via delle Hortensi a Lungarno dei Pioppi e in Via degli Gustri. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!